Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. ...dell'arbitro Copotelli davanti a 40.000 spettatori. La situazione è nebbia, si presenta critica. Il Milan comunque sfiora il gol subito in apertura con Simone, che di destro manda il pallone ad accarezzare la rete del portiere Peruzzi. Al diciannovesimo, mentre la visibilità è ormai quasi nulla, Ancelotti impegna in angolo da buona posizione l'estremo difensore veronese. Cerchiamo di rivedere qualcosa anche al rallentatore. Al ventiquattresimo, Van Basten lanciato da Rijkaard sul filo del fuorigioco all'occasione più ghiotta, ma prima Peruzzi e poi Gutierrez riescono miracolosamente a sventare l'insidia. Al ventottesimo, la nebbia è fittissima e l'arbitro Copotelli chiama sotto la porta del Verona i due capitani e i suoi collaboratori. Quattro minuti più tardi, la decisione di sospendere la partita. Domani si saprà qualcosa in più sul nuovo recupero. Grazie a tutti.